le 23.56 è da un po' di tempo che non faccio un video festeggiamo? festeggiamo dai ci si prova notes on number theory and discrete mathematics beh l'inglese non è il mio forte tuttavia ho chi mi aiuta perché nel mondo è giusto che ognuno abbia il suo ruolo quindi ancora un ringraziamento a Graziano D'Angelo per l'aiuto nella traduzione dell'articolo è un articolo che è stato pubblicato su questo giornale appunto una rivista che pubblica dal 1995 e praticamente ha delle trimestralità quindi trimestralità durante l'anno si fa una pubblicazione a marzo una giugno una settembre finalmente anche la pubblicazione su collaborato forse da dieci anni quando si dice ci vuole tempo per capire tutti gli sbagli che si fanno è finalmente online quindi andare su nntdm o cercare quindi scrivendo questa sigla su google vi fa prodare al volume 27 dell'anno 2021 bene ci sono 19 articoli di ricerca su teoria dei numeri e matematica discreta tra i quali cioè scorriamo benissimo eccomi qua vado a disturbare anche nei giornali di matematica quindi e questo è il mio articolo un pdf scaricabile però la mia intenzione è quella di dare una copia cartacea a chiunque capiti per la mia strada e magari possiamo festeggiare con un piccolo brindisi vabbè che dire ti può aprire il pdf ancora non ho visto l'articolo originale nella formattazione fresco fresco 2021 anche se ci stavo lavorando da tempo e praticamente l'articolo crea una sorta di di funzione utilizzando il crivello di eratostene e questa funzione supponendo che la distribuzione dei numeri primi segua il logaritmo integrale di Gauss va a matchare la funzione che conta i numeri primi gemelli chiaramente la funzione è una funzione sì continua quindi è molto comoda perché dà i risultati in qualunque valore nello spazio però chiaramente ci sono gli errori di approssimazione dovuti alle varie diciamo considerazioni che si fanno man mano il grafico è forse la parte più pittoresca ovvero la funzione blu è la funzione continua che esce fuori dall'analisi dell'articolo e quella rossa è la funzione che va a contare i numeri primi gemelli all'interno della tabella di Eratostene ora la funzione quindi reale che conta i numeri primi gemelli e la sua funzione approssimante mi ha sempre diciamo sorpreso non ho mai visto una funzione continua che va ad approssimare una funzione a scala in questo modo tant'è che questo simbolo forse ci avrete fatto caso l'ho scelto come simbolo del del mio canale e anche del profilo su su google va bene che dire è un risultato chiaramente debole nel senso che si 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 crea la falsa ipotesi che la distribuzione dei numeri primi segue il logaritmo integrale di gauss tuttavia il logaritmo integrale di gauss che tra l'altro forma il teorema fondamentale per i numeri primi non è una funzione tanto tanto errata da considerare come distribuzione chiaramente per avere il risultato preciso bisognerebbe lavorare con la distribuzione esatta questo risultato che produce un articolo che pensa al risultato prodotto considerando il valore in media quindi il movimento medio chiaramente l'articolo fa riferimento a una vasta bibliografia dal quale vengono dedotti tutti i passaggi niente di che forse potrebbe interessare la parte di analisi numerica e l'approccio per passare da una funzione discreta quindi da un oggetto come il crivello di eratostene che funziona in maniera discreta e anche limitata visto che bisogna elencare tutti i numeri e poi fermarsi e c'è questa trasformazione in una funzione continua un esercizio di ecco un approccio di analisi numerica a questa congettura dei numeri primi gemelli tutto qua va bene spero di non avervi annoiato e alla prossima ecco ecco Grazie a tutti.